Sette, eccola qua. E allora, Michail, io sono curioso perché Michail prepara sempre delle presentazioni veramente entusiasmanti che lascia la bocca aperta, quindi sono curioso. Io sono bravissimo, altro che, allora, ero entusiasta, un'offerta incredibile, non solo la Sega nella sua valigetta, in più, per sottolinearlo ancora una volta, sette lame per tagliare, guardate qua, due diamanti industriali per ceramica, per pietre naturali, quelle che costano, per intenderci, e ce ne due in tutto, sette, le altre sono per il legno e la plastica. E' come Natale. E allora, X-Act, Sega X-Act, Sega circolare X-Act vuol dire lavorare con precisione. Allora, ho un apparecchio manuale, maneggevole, leggero, anche se non fossi così grosso, senza problemi, è leggerissima. Allora, abbiamo l'aspirazione, noi colleghiamo questo tubo al nostro aspirapolvere di casa, uno qualsiasi, e eliminiamo tutta la polvere. Allora, vediamo qua, se vedete qua sul dettaglio, c'è una scala da 0 a 27, cosa sono andato a portarvi? Un materiale, un legno particolarmente duro, duro. Allora, guardate la cosa importante, il taglio perfetto, importante, se non sblocco questo pulsante, la lama non esce dalla sua sede. Allora, andiamo adesso a vedere, qui ho regolato male, ho messo una profondità eccessiva rispetto a quello che voglio fare. Allora, andiamo qua, e vogliamo andare a fare, facciamo, proviamo questo qua, questo è l'ustello qua, di legni diversi, e abbiamo un taglio perfetto, perfettamente dritto, su materiale composito di diversi tipi di legno con diverse durezze, e vedete che intanto non c'è un filo di polvere, perché il nostro aspiratore rimuove tutto. Allora, quello su cui abbiamo lavorato, ve lo mostro nel dettaglio, guardate da vicino con la telecamera, sono molto molto elegante, con comoda pratica chiusura, con le sette lame, c'è anche scritto per chi non si intendesse wood, quindi legno, alluminio. E' un fatto importantissimo, quando voi, solo quando avete sbloccato, con il punto influzante giallo, il pattino si sblocca, quindi, in realtà, questa è la sicurezza. Solo se qui avete pigiato, allora sì che la lama può fuoriuscire, perché il pattino si può ritirare verso l'alto, viene sbloccato, altrimenti la vostra lama lavora al chiuso. Avete una seconda impugnatura, che può andare sia a destra che a sinistra, e poi c'è anche una battuta laterale, che vi permette di seguire un profilo. Questo è un materiale composito, 12 strati incollati, colla, legno, colla, legno, legno, colla, senza rotture, senza scheggia, senza bruciature. Perfetto, senza problemi. Ecco perché parliamo di ex acta, perché è ex acta, esatto, preciso. Adesso c'è una configurazione speciale questa, una valigetta che non serve una configurazione mai vista prima, questa 9 lame. Che ci permette di collegare la nostra aspirapolvere, e non abbiamo polvere, chi ha fatto ceramica, granito, pietre naturali, sai che cosa vuol dire? Un'unvola di polvere da tutte le parti. Questo è quello giusto, ecco qua. Guardate qui, il nostro Pierpaolo, primo taglio di Pierpaolo, non ha pigiato sul bottone di sicurezza, e per sicurezza non ha tagliato, è giusto così. Guardate il risultato, voglio dire, secondo taglio del nostro moderatore, perfetto, guardate, un taglio perfetto, dritto, pulito. Sono orgoglioso di te, mio allievo, bravo. Grazie. Grazie. Grazie.